Bentornati su MyFootballJersey. Oggi facciamo la comparazione di una maglia speciale della stagione 22-23, della maglia del Liverpool dedicata a LeBron James e al suo record dell'NBA. Continuate a guardare il video fino alla fine perché vedrete la diversa vestibilità di queste due maglie. A dopo! Come al solito, una delle principali differenze tra la versione fan e la versione player è che nella versione player gli stemmi sono termosaldati mentre nella versione fan sono ricamati. Anche l'etichetta commemorativa dedicata a LeBron James infatti nella versione player è termosaldata mentre nella versione fan è ricamata. Il tessuto nella versione player è più lucido, più brillante, più traspirante di questa maglia vi consiglio assolutamente la versione player. Cosa ne pensate? Se da lontano le differenze non si notano, da vicino il tessuto della versione player risulta veramente molto più bello. Vi ricordo come sempre che nella versione player si consiglia di prendere una taglia più grande, questo soprattutto per quelli che un po' come me non hanno più un fisico così asciutto come quello degli atleti. Questa ad esempio è una taglia large, è normalmente una taglia un po' più alta di quella che io normalmente indosso. Questa invece è la versione fan, quella un po' più comoda pensata per i tifosi. Di questa io indosso normalmente la mia taglia della vita di tutti i giorni, una media. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che abbiate potuto apprezzare le differenze che ci sono tra versione player e la versione fan. Ora vi attendo su prossime recensioni, prima di lasciarci mi raccomando lasciateci un grosso like e iscrivetevi al canale, è l'unico modo che avete per farci crescere ed avere nuove recensioni in futuro. Ciao, alla prossima!